Il piano di ricostituire la cupola di Cosa Nostra dopo la morte del boss Totorina fu sventato a dicembre del 2018 dai carabinieri impegnati nel Maxi Blitz Cupola 2.0 che vide coinvolti oltre 50 imputati. 43 di loro che avevano scelto il rito abbreviato sono stati condannati in appello a dicembre dell'anno scorso per altri 5 che avevano scelto di procedere con il dibattimento. La sentenza di condanna è stata confermata oggi dalla terza sezione della Corte d'Appello di Palermo. Confermati dunque 18 anni a Pietro Merendino del clan di Misilmeri, 17 anni a Stefano Polizzi, 12 e mezzo ad Antonino Fumuso, 3 anni e 8 mesi a Simone Labarbera, 3 e 4 mesi a Giusto Amodeo, per una sesta persona il costruttore Pietro Losicco. Il verdetto è stato invece ribaltato, è stato assolto e può dunque tornare in libertà lasciando gli arresti domiciliari. In questo caso sono state accolte le tessi della difesa rappresentata dagli avvocati Rosanna Vella ed Enrico Tignini. Con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa in primo grado, era stato condannato a 10 anni di reclusione, ora è stato completamente scagionato.